Consigliera Marcozzi, voi parlate di una regione allo sbando per quanto riguarda la gestione e la programmazione dei fondi europei, perché? Beh, Regione Abruzzo è in estremo ritardo sulla programmazione dei fondi, se pensiamo che l'FSE è stato approvato 20 mesi fa, l'FSR un anno fa e non è ancora uscito di fatto alcun bando. Quello che è l'evento di domani, ribattezzato da qualcuno la Leopoldina, è un evento che avrebbe dovuto essere di presentazione dei progetti, di presentazione dei bandi e non di idee, non un laboratorio di idee. E noi crediamo che i fondi, cioè gli FSE che sono stati utilizzati per l'organizzazione di questo evento, siano stati utilizzati impropriamente e chiederemo, se pensiamo tra l'altro, che c'è un tavolo anche sulla riforma costituzionale, per cui che cosa abbia a che vedere la riforma costituzionale sulla programmazione specifica dei fondi, non lo abbiamo capito. Per cui chiederemo alle autorità competenti di verificare il corretto utilizzo di questi fondi.